paura per marica abbonato la non scelta di daniele paudice l'ex corteggiatrice di uomini e donne ha pubblicato alcune storie su instagram dove si è mostrata in sedia rotelle con un collare ortopedico e una gamba fasciata la ragazza ha aggiunto uno scritto allo scatto pubblicato sui social benedetta grazie a quelle persone che si sono preoccupate ieri e ci hanno soccorso tutto sommato stiamo bene abbiamo sfiorato una tragedia siamo state graziate da dio marica abbonato non ha svelato i dettagli di quello che è accaduto ma si può supporre che viaggiasse in auto in compagnia di un'amica comunque il volto di uomini e donne ci ha tenuto a far sapere ai fan che le cose potevano andare molto peggio uomini e donne marica abbonato è stata coinvolta in un incidente stradale marica abbonato è stata coinvolta in un incidente stradale che poteva avere serie conseguenze il volto di uomini e donne si è mostrata su instagram in un letto d'ospedale con indosso un collare ortopedico l'ex corteggiatrice del trono classico ha fatto sapere di essere stata miracolata da dio visto che lo scontro poteva avere ben più serie conseguenze al momento marica ha riportato un colpo di frusta alle vertebre cervicali e una gamba fasciata per questo motivo è stata costretta alla sedia a rotelle la ragazza non ha spiegato la dinamica dell'incidente in cui è rimasta coinvolta con l'amica ma ha ringraziato i fan che le hanno mostrato la loro vicinanza in questa tragedia